Ben tornati a tutti, buon anno. Per questa volta buon anno alla prima trasmissione del 2018. Siamo contenti di essere ancora qui tra voi e voi con noi che ci seguite attraverso Videonovara, Odeon TV e tutte le emittenti collegate. Speriamo che abbia passato buone feste. Speriamolo, insomma. È il nostro augurio che abbiamo fatto la volta scorsa con il sindaco e il prefetto presenti come ospiti e oggi ve lo facciamo noi nuovamente. E parliamo comunque di un argomento che è sempre di attualità. Non mi rieziamo benissimo l'anno perché parliamo di deiezioni. Perché qualche settimana fa i giornali locali si sono occupati. Vedo che lei, Avvocato Bastetti, ha un numero... Un argomento che mi aveva un po' colpito qualche settimana fa, poi ovviamente con le feste e tutto, siamo arrivati al 2018. E praticamente questo articolo del Corriere di Novara parla di... Noi usiamo il termine giuridico deiezioni. Lì c'è il termine più breve, no? Com'è il titolo usando il termine deiezioni? Inizia con la C, è molto più breve. Allora, deiezioni sui marciapiedi e guerra a colpi di boccone di veleno. Ogni tanto questo tema torna. Infatti l'articolo poi è abbastanza ampio, era apparso alla Bicocca un cartello dove si avvisavano appunto, alcuni avvisavano chi aveva i cani, che c'erano questi boccone di veleno avvelenati. Cosa ovviamente... Come ritorsione. Come ritorsione rispetto a un problema che è quello effettivamente delle deiezioni dei cani che ne troviamo da tutte le parti, però a questo problema mettere i bocconi, di veleno per cui, come dire, provocare questi animali, magari anche animali di padroni innocenti, cioè per assurdo potrebbe essere un padrone diligentissimo che raccoglie tutte le deiezioni e andrà a essere colpito. Questo mi ricorda un tema in un vecchio film, insomma 30 anni sono passati, di Batman, in cui il Joker metteva proprio dei veleni casuali nei prodotti di bellezza e quindi... è un vulcano lei, cioè queste cose inaspettate durante la trasmissione sono bellissime, perché non so mai dove vuole parare, perché magari i nostri ascoltatori pensano che noi ci mettiamo d'accordo, ma in realtà è tutto improvvisato. Ho visto il DVD così lei potrà rendersi conto che... La prossima trasmissione è così, posso... Allora... Torniamo al nostro problema. Torniamo a questo problema delle deiezioni di animali, che è effettivamente un problema, un problema ancora maggiore sono questi bocconi avvelenati che si trovano in giro. E sono andato a rispolverare un po' quello che dice il regolamento comunale, che se non sbaglio dovrebbe essere il regolamento ancora del 21-2-2011. Dovrebbe essere stato solo modificato ma in altre parti che non toccano questo tema. Ed è il regolamento in materia di tutela di animali. Dunque, l'obbligo... L'articolo 18 parla, o meglio 19, ho letto male, parla dell'obbligo di raccolta delle deiezioni canine. E dice, i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di cane ed animali nell'accompagnamento degli stessi in aree pubbliche o ad uso pubblico, e in particolare sui marciapiedi, e quante ce ne sono, sedimi stradali e aree verdi aperte al pubblico, hanno l'obbligo di raccordare le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo, depositandoli nei contenitori per rifiuti solidi urbani. Perché alcune volte capita di vedere dei sacchettini con queste deiezioni buttate sui marciapiedi. No, l'obbligo non si limita a raccoglierle e a metterle nei sacchettini, ma anche a depositarle nei appositi contenitori. Poi appositi dei contenitori, forse non ci sono neanche più, ma comunque parla di contenitori dei rifiuti solidi urbani. Forse qualche anno fa c'erano anche dei contenitori, peraltro pochi. Quanto meno comunque i cestini ci sono e poi bisogna utilizzarli. Bisogna utilizzarli. Ecco, ci sono delle sanzioni che sono previste nell'articolo 38, sempre di questo regolamento, sanzioni che vanno da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro. Per la verità, poi ho trovato un articoletto sul sito del Comune di Novara, dove c'è una specie di relazione sul numero di verbali fatti dagli ispettori ambientali ASSA. Ecco, tra tutti i verbali che sono 583 dal 2013, vedevo proprio in materia di deiezioni ci sono stati 76 verbali, per cui sono stati sanzionati. Non è una cosa che è scritta solo sulla carta, voglio dire, ci sono state delle effettive sanzioni. Tra l'altro, voglio dire, non soltanto il regolamento del Comune di Novara prevede questo, ma anche, ero andato a trovare un'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009, con le successive modifiche, praticamente elenca le misure da adottare quando si detiene un cane, per cui, tra le varie cose, è obbligatorio raccogliere le deiezioni del proprio amico. E, per ultima cosa, poi le lascio la parola, avevo trovato anche una sentenza di Cassazione, sentenza che forse avevamo accennato in una vecchissima nostra pubblicità, non più di tanto, la sentenza del 2015, parzialmente vecchia, dove la Cassazione è stata chiamata a pronunciare su un reatto, il 639,2 del Codice Penale, in buona sostanza si trattava di un cane che faceva i bisognini, non tanto di eiezioni solide, ma le altre di eiezioni liquide, su un muro condominiale ed era stato condannato dal giudice di pace, sentenza riformata in tribunale e confermata in Cassazione. La Cassazione ha, come dire, dato un'idea, no? Ha dato un'idea, ha detto non sussiste il dolo, perché motivo? Perché aveva riscontrato la Cassazione che il padrone dell'animale aveva con sé una bottiglietta d'acqua che serviva per pulire questa diezione liquida dal muro. In buona sostanza questa sentenza è stata chiamata, insomma ogni tanto viene richiamata per, come dire, perché elenca cosa fare le misure precauzionali per non essere... Possiamo dirlo ai nostri ascoltatori. E qui c'è un piccolo riassuntino di quello che dice la sentenza, cioè il proprietario deve mettere in atto un'attenta vigilanza sul comportamento dell'animale, e va bene, primo punto. Poi deve limitarne la libertà di movimento in modo che non sia totale, ad esempio tenendolo al guenzaglio, no? deve intervenire con atteggiamenti tali da farlo desistere dall'azione incriminata e nell'impossibilità di viettare al cane di fare la pipì, dice Cassazione, lo possiamo dire pipì, ebbene portarsi dietro una bottiglietta d'acqua per pulire. Questo è un po' un riassunto di quello che dice... Però è particolarissimo, perché... C'è una volta che uno osserva tutte queste... Esatto, le Cassazioni che leggiamo, gli ermellini, si occupano di cose giuridiche... Cioè immaginare questi massimi giudici a Roma... Che si sono occupati invece non solo dell'argomento che appunto abbiamo trattato, ma che hanno dato... Immagino che ci sia stata anche un po' di larità tra di loro, magari... Probabilmente, insomma. E hanno dato, come dire, dei consigli anche pratici. Io voglio solo aggiungere, oggi c'è una puntatina un po' più breve, del solito così evitiamo di togliere spazio anche ai consigli per gli acquisti, perché qualche volta noi sforiamo, poi giustamente dobbiamo recuperare la puntata dopo. Mi sto occupando da qualche tempo, grazie anche all'ospitalità del Corriere di Novare, dell'Eco di Biel, Corriere su ogni sabato, questa rubrica che si intitola i diritti degli animali. Ma naturalmente parliamo anche poi di quelle che sono non solo le sanzioni amministrative dei regolamenti comunali, per esempio, o anche regionali, ma anche della parte penale, perché nel 2004 è stata sostanzialmente riscritta tutto un titolo del codice penale con la introduzione di diversi reati, 544 bis, ter, eccetera. Adesso non ho portato con me il codice, stamattina è stata una mattinata particolarmente intensa. E quindi quello che volevo appunto dire è che sostanzialmente prima di allora esisteva soltanto l'articolo 727 che era una pura e semplice contravvenzione, quindi un reato veramente minimo, che parlava del maltrattamento degli animali. Oggi il 727 ha cambiato vita, ha cambiato sostanza, e invece tutta la questione relativa al maltrattamento, all'uccisione, ai combattimenti tra animali, cioè tutti i comportamenti vietati e sanzionati penalmente dal codice penale, hanno trovato ampio riscontro nella legislatura, il quale peraltro ha provveduto a rinnovare, insomma a evidenziare questa nuova sensibilità che è stata portata verso il mondo animale già nel 2004. Ma se devo dire la verità è una cosa che è passata un po', a parte per le associazioni animaliste, un po' sotto silenzio, non ha avuto grande eco. Quindi spesso e volentieri i cittadini, insomma, a coloro, tutti noi che siamo destinatari delle norme del codice, probabilmente spesso si ignorano che per determinati reati, come l'uccisione di animali, il maltrattamento, le sevizie, eccetera, sono previste anche pene detentive della reclusione, quindi non soltanto una semplice multa o sanzioni amministrative. Da un lato vediamo che sono state depenalizzate, ad esempio, dei reati, e invece su questo argomento voglio dire... Infatti a proposito di questo c'è proprio un comma dell'articolo che riguardava la depenalizzazione, cioè meglio quello che riguardava la speciale tenuità, per cui la punibilità potrebbe essere esclusa quando in un ambito piuttosto ampio, reati che prevedono pene fino a 4 anni di reclusione, è possibile evidenziare, ovviamente a discrezione del giudicante, una soglia di non punibilità per una tenuità del fatto, però vengono esclusi proprio i comportamenti nei confronti degli animali. Stranamente, voglio dire, sull'onda magari... coloro che effettivamente hanno minacciato o che hanno scritto questi cartelli in cui dicono noi dissemineremo bocconi avvelenati, quindi sostanzialmente è un preannuncio dell'uccisione o dell'avvelenamento di un animale. Se identificati, logicamente, rischiano pene anche detentive. Però, come abbiamo già iniziato l'anno scorso e continueremo, diciamo che questo tipo di reati, visto che sono una dozzina, vengono meglio esaminati da me durante le varie puntate di O ragione avvocato. E quindi, per una trattazione più esaustiva, al di là della rubrica settimanale del sabato, del numero del sabato del Corriere di Novara, potrete trovare anche, ascoltando appunto le puntate di O ragione avvocato, che verranno in questo anno 2018, che ormai segna il nostro tredicesimo anno di attività a Videonovara con questa trasmissione. Pertanto vi rinnoviamo ancora gli auguri di un sereno anno nuovo e vi ringraziamo per averci seguito fin qui, invitandovi a seguirci ancora. Le puntate vengono poi caricate anche su YouTube. Sì, perché avete modo di rivedervele. Sì, perché avete modo di rivedervele. La nostra pagina, appunto, O ragione avvocato, pagina Facebook. Grazie a tutti per l'ascolto. Buon anno ancora, arrivederci a tutti. Sì, perché avete modo di rivedere il nostro tredicesimo anno? Sì, perché avete modo di rivedere il nostro tredicesimo anno? Sì, perché avete modo di rivedere il nostro tredicesimo anno? Sì, perché avete modo di rivedere il nostro tredicesimo anno? Grazie a tutti